Io sto sentendo stasera delle cose che non stanno proprio né in cielo né in terra. L'altra parlamentare dell'MDP ha detto che non c'è un nesso tra immigrati e criminalità. Non lo so se il nesso c'è, però sta nei numeri. Ci sono i dati Istat, il 34% della popolazione carceraria è composta da stranieri. Poi arriva Cecchi Paone che tra l'altro deve chiedermi scusa perché l'altra volta ha offeso tutti i cascinesi e la mia città. Mi sono arrivate un sacco di mail, alla mail del sindaco, perché si sentono offesi dalle sue parole. Quindi io non la denuncio, però chieda scusa a Cascina e a Cascinesi. Se lei è un sindaco che è in giro col bazooka, vuol dire che a Cascina non si sta sicuri. No, a Cascina si sta sicuri, lei non lo sa, lei per fortuna non è il sindaco della mia città. Lei per fortuna non è il sindaco della mia città, è un problema dei vostri cittadini che l'hanno eletta. E le assicuro che si sta benissimo, chieda scusa a Cascina e a Cascinesi. E allora perché si arma? Ma allora perché si arma se si sta benissimo? Ci armiamo perché questo Stato purtroppo che non difende i cittadini... Il suo Stato che lei rappresenta, stia attenta. ...perché io veramente, ascoltando la storia del signor Daniele, mi si riempie il cuore. Però sta di fatto che il signor Daniele non l'ha salvato lo Stato. Ma lei è un padre costituente adesso. No, dai, 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 che andiamo lontano se parliamo di tutte queste belle cose, dai, fatti. No, lei ha detto che chi si difende non è una persona per bene. Mi scusi, lei ha detto una cosa gravissima, che chi si difende non è una persona per bene. Ma come si permette nei confronti di quelle tante persone che, costrette dalla necessità, si sono dovute difendere di fronte a criminali e per fortuna si sono difetti e non sono morti. Calmatemi, dai, fatemi andare un attimo.